La raccolta differenziata dei rifiuti è un obbligo di legge capace di portare grandi convenienze, ma che a Catania non riesce proprio a decollare come nel resto della Sicilia. La città etnea è proprio il fanalino di coda dell'Europa, in quanto lo smaltimento differenziato non riesce a raggiungere nemmeno il 10% del totale dei rifiuti e le tasse sullo smaltimento in Sicilia sono peraltro tra le più alte d'Italia. Sono tre le isole ecologiche a Catania, ma solo due funzionanti, una in via Le Tirreno, l'altra in via Maria Gianni nel quartiere Picanello, una terza inagibile si trova in via Generale a Meglio ed è stata più volte vandalizzata e abbandonata. La differenziata sconta un gap sostanziale, non solo nell'organizzazione e di una serie di proroghi di un appalto mai vecchio e superato che impedisce il passaggio al porta a porta, ma una serie di azioni mancanti, quali per esempio la mancata attivazione dell'isola ecologica di via Generale a Meglio per la quale il Consiglio Comunale aveva messo 400 mila euro. Uno dei punti più importanti alla base del problema è quello del mancato controllo dei rifiuti che vengono accettati o rifiutati e quindi non si conosce mai esattamente la quantità dei rifiuti che vengono trasferiti in discarica. L'azzeramento di fatto dell'ufficio di vigilanza ambientale che proprio serviva alle verifiche. Questa mancanza di controllo in poco meno di 4 anni ha portato a un aumento del volume dei rifiuti di circa 10 milioni di chili per un totale di 200 milioni di chili l'anno. Poi l'assenza di interventi anche da parte della Regione che avrebbe dovuto con le proprie ordinanze fare una serie di azioni straordinarie per avviare la differenziata. Insomma Catania è il fanalino di coda dell'Italia in tema di differenziata con tutto quello che significa poi in termini di costi per i cittadini e di danno ambientale.